Un luogo di incontro, musica e animazione per bambini. Sarà così il nuovo scenario di Piazza Andrea Costa, in pieno centro a Fano, a partire da questo fine settimana. L'amministrazione comunale fa sapere che da sabato 4 luglio parte ufficialmente la sperimentazione della pedonalizzazione del centro storico. Queste modifiche hanno un duplice compito, spiega l'assessore alla qualità urbana Fabio Latonelli. Il primo, l'intento di dare respiro ai locali del centro, dando loro il modo di uscire all'esterno con tavoli e sedie, mentre il secondo, quello di proiettare la città verso una mobilità sempre più sostenibile, allontanando così lo smog delle auto. Soddisfatti i commercianti che operano in Piazza Andrea Costa, che definiscono questa modifica un aiuto per guadagnare i diversi giorni persi durante la chiusura per il coronavirus. Io mi trovo naturalmente favorevole alla chiusura della piazza, in quanto comunque essendo un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di avere tavoli aperti e all'aperto e comunque sia la possibilità di organizzazione di eventi, naturalmente mi trova favorevole alla cosa. E anzi, tanto più che ci siamo un attimino attivati con un'associazione con la quale appunto approfitteremo del periodo di sperimentazione per cercare di far ravvivare molto la piazza e dare il nostro contributo per portare gente in centro, ecco, vedere il lato positivo della cosa che secondo me nel tempo porterà beneficio. Secondo me acquista sicuramente la piazza nel pomeriggio e la sera, per il mattino è uguale, per i parcheggi troveranno una soluzione, penso, se la chiudono al parcheggio, però sicuramente la devo sistemare. Secondo me acquista, a me non mi dice niente perché il pomeriggio non apro, quindi penso che acquistano i bar, questa cosa qua, nascerà una cosa diversa per la sera, il pomeriggio e sera. Ma se da una parte alcuni commercianti ci fanno notare che sarebbe meglio prima riqualificare l'aria chiudendo grosse buche, sistemando i marciapiedi pericolosi e dando più decoro all'aria, dall'altra c'è anche chi ha paura di una eventuale perdita della clientela. Perderete i clienti? Io spero di no, ma solo che in questo modo, specialmente con l'inverno, avendo persone grandi che vanno, sono le uniche che possono pagare perché c'è una pensione, bisogna tenere presente anche di quello. Clienti grandi che la mattina non possono venire a fare la spesa e si devono far accompagnare la sera con la macchina e lasciare la macchina dietro, se poi c'è una spesa o due, c'è clienti che hanno persone disabili, se le devono portare dietro e così, se chiudono tutto la sera dalle tre del pomeriggio, per cosa fare, specialmente d'estate, non so cosa serva. Allora fosse stato, diciamo, dalle sette la sera, allora due ore ci si gestisce, ma chiudere dalle tre del pomeriggio... L'ha detto al comune, immagino di sì. Allora, la signora Tonelli non si è vista, si doveva far vedere alla riunione e non si è vista, si è presentata solo nei bar e basta. Adesso vedremo se è la sperimentazione come quella che hanno fatto qui con la scritta è la sperimentazione definitiva o è sperimentazione o è definitiva. Ma oltre a Piazza Andrea Costa, sempre da sabato, partirà anche la sperimentazione della ZTL su diverse zone e vie del centro storico, come Corso Matteotti, Via Bovio, Via Arco d'Augusto, Piazza 20 Settembre, Via Ugolino dei Pili e Via San Francesco d'Assisi. In queste vie, dalle ore 19 alle ore 24, nessun veicolo potrà attraversare la zona pedonale, ad eccezione di disabili, mezzi di soccorso e forze dell'ordine. Ma non finisce qui. Altre modifiche saranno effettuate in Via Francesco de Borgoggelli e Via Alessandrini, dove sarà prevista l'inversione di marcia. In più, la Polizia Locale intensificherà i controlli per evitare parcheggi selvaggi e l'ingresso e l'uscita all'interno della ZTL degli operatori economici.